Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia quindi al centro-sud non mancheranno ampie zone di sereno e clima particolarmente mite il nord invece avrà l'atmosfera un pochino più instabile, tempo più variabile con anche qualche acquazzone controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete il nord Italia vedrà il passaggio di un po' di nuvole che si allungano fino anche all'Italia centrale ma nel centro Italia si tratterà principalmente di velature al sud cielo per lo più poco nuvoloso come precipitazioni diciamo qualche acquazzone al nord è previsto in particolare sulla fascia alpina-pralpina con fenomeni anche piuttosto intensi a ridosso delle zone montuose invece nel resto d'Italia è situazione tranquilla quindi in definitiva ci attende una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo al centro-sud solo qualche velatura di passaggio nell'Italia centrale al sud tratto temperature molto molto miti massime che supereranno i 25 gradi ma in alcune zone ci avvicineremo anche ai 30 figuratevi voi il nord invece avrà una giornata a tratti un po' più variabile specie il nord-ovest acquazzoni e temporali su Val d'Aosta, Alto Piemonte, Alta Lombardia con fenomeni anche piuttosto intensi che in serata si sposteranno anche verso il Trentino Alto Adige e l'Alto Veneto per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo